Ciao, il tema del video di oggi sono le case corrispondenti. Lo stimolo all'argomento di oggi mi è venuto a seguito della partita giocata nel torneo che si è recentemente svolto a cadenza rapid, Champions Chess Tour Final, in cui erano presenti i più forti giocatori del mondo con questa specialità e la partita che mi ha ispirato è quella tra Rajapov e Nakamura in cui Rajapov a un certo punto nella posizione sopra di me rappresentata ha giocato una mossa sbagliata che era i d2 e dopo la quale si è accorto dell'errore e potete aver visto nella copertina la faccia desolata perché Rajapov era sulla sinistra quindi chiude gli occhi in modo sconsolato e sulla destra è rappresentato l'istante in cui Nakamura si accorge che probabilmente il re d2 sbagliata è a posizione vinta. Vediamo la genesi della posizione prima di arrivare re d2 che è riportata sulla scacchiera vedete mossa al bianco la partita è andata al fiera mangiato il cavallo dopo re prende pedone prende e il re deve tornare a prendere il pedone viene spinto questo punto re mangia e tocca a Rajapov che in scarsità di tempo giocare di due e raggiungendo la posizione persa vediamo come andata la partita dopo re d2 il bianco il nero ha giocato re e 5 e dopo re d3 il nero ha giocato re d5 e il bianco abbandonato perché nel caso di re via il re va a mangiare il pedone oppure nel caso di re difende il pedone re va nei 4 e perde e quindi ha abbandonato. Vediamo adesso invece invece di re d2 come avrebbe dovuto giocare rajapov e soprattutto qual è la modalità di ragionamento che avrebbe dovuto condurre e la modalità di ragionamento è legata al concetto di case corrispondenti. Qua sono le case corrispondenti? Le case corrispondenti si presenta l'utilizzo in rara occasione ma nei finali di pedoni abbastanza sovente come questo in cui sono le posizioni in cui deve andare il re difende a seguito della posizione che raggiunge il re che vuol vincere. In quel caso qua il re che vuol vincere perché il bianco ha la debolezza del pedone 3 e anche svantaggio di spazio è il nero e a questo punto il bianco per capire quali sono le case corrispondenti deve forse la domanda di dove dovrà poter andare il re bianco quando il re nero potrebbe raggiungere la casa e4 e la risposta è che l'unica casa che deve poter raggiungere per riuscire a pareggiare è la casa e2 perché se lui fosse per esempio in d2 il il nero giocherebbe re f3 e vincerebbe se fosse in f2 il re nero giocherebbe re d3 e vincerebbe quindi l'unico modo per contrastare un re nero in e4 è trovarsi e poter andare con re e2. A questo punto un'altra casa interessante è la casa d5 dove dovrebbe andare il re bianco quando il re nero andrà in d5? anche qua la risposta è re d3 cioè è abbastanza semplice re d3 in quanto se lui non fosse in re d3 consentirebbe al bianco di andare o in e4 o in c4 vincendolo la partita quindi quindi se lui fosse per esempio in re c3 andrebbe re 4 se fosse re d2 andrebbe re c4 quindi per forza di cose allora quando il re nero andrà in d5 il re bianco dovrà poter andare in d3. A questo punto un'altra domanda interessante che bisogna porsi è ma se il re nero andasse in e5 dove dovrebbe trovarsi il re bianco? Dovrebbe trovarsi in una posizione tale per cui il re bianco riuscirebbe a raggiungere le case corrispondenti alle case d5 e e4 che sono le case che il re nero potrebbe raggiungere dai 5. Qual è quella casa? e vediamo subito che la casa in cui deve trovarsi il re bianco quando il re nero andrà in e5 il re bianco dovrà andare in d2. A questo punto con questo schemino che riporto anche in alto a destra vediamo che vediamo una cosa importante che sicuramente è sbagliata re d2 perché il re dovrà andare in d2 quando il re nero andrà in e5. Se lui va in d2 adesso il re nero va in e5 e vincerebbe. Quindi già da qua vediamo che sicuramente il re d2 è sbagliato e vediamo anche che il re bianco quando il re nero come in quel caso qua si trova in d5 dovrà per forza di cosa farsi andare, farsi trovare in c3. Quindi la casa corrispondente di d5 è re c3 perché con re c3 il re bianco è pronto ad andare a seconda delle mosse del re nero o in d3 o in d2. A questo punto quindi re d2 abbiamo visto che perde, Rajabov con questo ragionamento regate alle case corrispondente avrebbe dovuto giocare l'unica mossa per pareggiare re c3 con il seguito che potrebbe essere re 5. Come vedete il diagramma sopra di me quando il re va in e5 dove deve andare il re bianco in d2, quindi il re bianco va in d2. Quando il re nero fosse andato in e4 la cara corrispondente di e4 è e2 e se fosse andato in d5 la cara corrispondente è d3. E quindi vediamo che con questa accuratezza il bianco non riesce a far progredire il vantaggio ipotetico del nero e la posizione sarebbe terminata a patta. Quindi il rammarico di Rajabov è dovuto al fatto che lui probabilmente si è accorto facendo velocemente quel ragionamento qua che non è semplice perché bisogna visualizzare quegli schemini qua e non è semplice, specialmente gioco rapido, però lui probabilmente dopo la mossa si è accorto ed è rimasto sentristito, chiuso gli occhi. Vediamo adesso un altro esempio capitato a Karsen, niente poco di meno che Karsen, il campione del mondo attuale, che nel nel campionato rapid del 2018 contro Petrov si è trovato in questa posizione e a seguito lui bianco, Karsen bianco. Di cavallo b6 Karsen ha giocato in modo poco accurato re b7 concedendo al nero di giocare cavallo per alfiere e dopo cavallo per alfiere pedone per cavallo si sarebbe raggiunto una posizione pari, che metto, no, si sarebbe raggiunto una posizione pari, che è questa, quindi si sarebbe raggiunto questa posizione qua pari, ma invece ha concesso, quindi ha concesso dopo re b7 di pareggiare al nero, invece il nero non è approfittato, ha giocato re b7, a questo punto non ha lasciato più la possibilità di rientrare a variante patta, che poi vedremo perché patta, e ha giocato scacco con il seguente seguito, che adesso vediamo un po' velocemente perché ci serve anche per capire una cosa che come fa a vincere il bianco, quindi aggira il pedone e dopo si dirige verso il punto F6 riuscendo a guadagnare un pedone, dopo entrambi fanno donna, però la mossa è al bianco e soprattutto il bianco riesce per la disposizione migliore dei pezzi a guadagnare anche il pedone g5 e a vincere la partita. E dopo redder g5 la partita è stata abbandonata da parte del nero. Vediamo adesso invece di capire perché dopo cavallo mangia alfiere la posizione sarebbe stata patta. E per capire questo dobbiamo anche qua far mente locale con l'utilizzo delle case corrispondenti perché qua ci sono per esempio nella posizione attuale capiamo benissimo subito che per non perdere il nero deve poter andare la cara a corrispondenza di b7 che è d7, quindi il nero dovrebbe in questo punto poter come può giocare a b7, però vediamo se riesce a far fronte a tutte le case corrispondenti. Quindi vediamo se il re bianco fosse in b5 la casa corrispondente sarebbe d6, l'unica che difende il pedone c5. Se il re bianco fosse in b8 qual è la casa corrispondente? È d8, quindi se il re bianco fosse in b8 il re nero per pareggiare dovrebbe essere in d8 perché se fosse in d7 il bianco giocherebbe re d7 raggiungendo una posizione che avrebbe dovuto raggiungere il nero. A questo punto poniamoci la domanda qual è la casa corrispondente di a6? La casa corrispondente di a6 è una casa, visto che a6 può consentire al bianco di andare in b7 e in b5 che hanno come le case corrispondenti di a6 è e7. La casa corrispondente di a7 è una casa che visto che il re bianco da a7 potrebbe andare in a6, b7 e b8 è una casa che consentirà al re nero di andare nelle tre case corrispondente quelle menzionate prima. Quindi la casa corrispondente di a7 è e8. la casa corrispondente di a8 è e7 in quanto il re da a8 può andare in a7 e in b7 e in b8. Le case corrispondente di a7 è la casa corrispondente di a5 è la casa corrispondente di a5 è la casa d7. Infatti da d7 il re nero potrebbe raggiungere d6 ed e7. Qual è la casa corrispondente di a4? La casa con ogni tentativo del bianco di raggiungere case il nero ha sempre una casa a disposizione corrispondente e a questo punto se il nero nei tentativi del bianco tiene presente queste case corrispondente che adesso riporto sopra di me riesce a condurre la partita al pareggio pur di rispondere in modo preciso ad ogni mossa del re bianco alla casa corrispondente che gli necessita raggiungere per raggiungere la parità. A questo punto vediamo cosa avrebbe potuto esquisitare carse ma non gli avrebbe consentito di vincere gioco corretto perché per esempio se quindi qua la mossa è al nero e quindi la mossa al nero è facile perché deve raggiungere la casa corrispondente di b7 che è d7. Vediamo adesso qualche tentativo che avrebbe potuto fare il bianco. Se fosse andato in a8 dove sarebbe dovuto andare il re nero e dal diagramma vediamo la casa corrispondenza di a8 è e7 quindi il re nero avrebbe dovuto raggiungere la casa e7. Dopo re b8 dove dovrebbe andare il re nero e vediamo subito che è re di 8. Su re a7 dove dovrebbe andare il re nero vediamo e8 ed è e sono mosse abbastanza poco intuibili e quindi richiedono proprio il ragionamento del caso corrispondente se no non si riuscirebbe in modo in modo facile a trovarle. Dopo re a6 la mossa corretta è re d7. Unica mossa ricordo perché le altre perderebbero. Dopo re b5 bisogna difendere il pedone a re d6. Dopo re a4 bisogna essere pronti a contrastare la possibilità che il re bianco possa andare in b5 e in a5 e quindi bisogna giocare re e7. A questo punto con tutto questo ragionamento qua dal punto di vista di Carson avrebbe dovuto capire che concedere cavallo per alfiere c4 la posizione sarebbe stata patta e a tempo rapido tutta questa complessità qua è difficile a gestire e Petrov invece avrebbe dovuto cogliere l'attimo e giocare cavallo per c4. Invece non ha giocato la partita è persa però dietro quella sconfitta e quegli errori qua c'è dietro quella complessità che può essere risolta risolta quel concetto delle case corrispondenti. Vediamo adesso un ultimo esempio in cui le case corrispondenti riescono a condurre la vittoria. Il bianco questa posizione è una posizione che è strata elaborata da me sulla base di uno studio fatto da Sacconi nel 1925 e il problema è il bianco muove e vince. Come facciamo a vincere? Qua ci sono ben chiare le debolezze dei pedoni e7 e e5 che sono più deboli per la presenza del re che può attaccarli rispetto ai pedoni deboli altrettanto deboli e3 e 4 ma il re nero può attaccarli. Quindi la posizione vantaggiore del bianco bisogna chiedersi come può il bianco vincere e per far questo si ricorre al concetto di case corrispondenti. Evidente che la casa corrispondente più semplice è la casa che deve essere evidenziata dal re nero sulla presenza del re nero bianco di 5 la casa corrispondente evidentemente re f6 se non vedono verrebbe perso così come anche se meno facilmente è possibile vedere che la casa corrispondente di re di 7 è re f7 perché se re fosse in f6 il re bianco potrebbe andare in e8 e aggirare e aggirare la posizione cercando di obbligare a spingere il pedone e poi mangiaglielo oppure se invece di re f8 il re in f6 il re di nero fosse in f8 il re bianco da d7 potrebbe andare in e6 quindi casa corrispondenza di d7 è f7. casa corrispondenza di d8 è f8 perché se re fosse in f6 seguirebbe re di 7 con considerazione che abbiamo fatto in precedente. A questo punto possiamo andare avanti e vedere qual è la casa corrispondente di c6. C6 deve essere una casa che fronteggia le possibilità della parte del bianco di andare in d7 o d5 e la casa corrispondente a questo punto è g7 perché da g7 il re nero potrebbe andare in f7 e in f6. qual è la casa corrispondente di c7 e 8 quali sono le cari corrispondenti sono f8 f7 g7 a questo punto la casa corrispondente di c7 è g8. qual è la casa corrispondente di c8 la casa corrispondente di c8 è g7 perché anche qua da c8 potrebbe andare in c7 d7 e d8 le case corrispondenti sarebbero state f7 f8 g8 a questo punto dove dovrebbe essere il re nero per poter andare in queste tre case in g7. andiamo avanti per ricercare la casa corrispondente ci manca c5 di importante da c5 se il re bianco fosse il c5 dove dovrebbe andare il re nero e vediamo che la casa corrispondente di c5 è f7. a questo punto una volta fatto quel quadro di cari corrispondente vediamo immediatamente che il bianco per poter vincere non può giocare re c8 perché seguirebbe re g7, a questo punto l'unica mossa plausibile è re b7 ma qual è oltre a una mossa plausibile qual è l'obiettivo? è quello di raggiungere con re la casa c5 quindi l'idea che sottende la mossa re b7 che è papabile perché le altre due abbiamo detto che conducono la patta l'idea è l'idea è quella di andare con re c5 perché fin tanto che il re si trova nelle case re b8 re b7 il re nero può stare in h7 ma quando il re può andare in h7 perché le case corrispondenti sono g8 e g7 ma quando il re bianco andrà in c5 il re nero dovrà andare in f7 a questo punto non riesce a pendolare si capisce che non riesce a pendolare da re h8 re h7 perché a un certo punto quando il re sarà in c5 dovrà poter andare in f7 e da h7 h8 non riuscirà e quindi il piano vincente re b7 re b6 re c5 e adesso vediamo riportando quel diagramma qua sopra di me come può condurre la vittoria la posizione a gioco corretto il bianco seguendo la tecnica il principio delle case corrispondenti quindi la mossa corrette è re b7 quindi abbiamo detto se re g8 re g7 la posizione è vinta perché il re nero si trova su una casa che dovrebbe raggiungere nel caso il re andasse in c8 o c7 quindi se in quella posizione qua il nero giocasse re g7 seguirebbe re c6 o re c8 se giocasse re g8 seguirebbe re c7 unica per vincere vediamo se il nero gioca la mossa più fastidiosa che re h7 a questo punto il bianco continua al suo piano per raggiungere re c5 e a questo punto non c'è più possibilità da parte del nero di temporeggiare perché o cerca di andare a predisporsi a parare re f7 o cerca di andare oppure non riesce a evitare re c5 vediamo se temporeggiare re c8 re c5 a questo punto la casa corrispondenza re c5 e re f7 il re nero non riesce a raggiungere la posizione è persa quindi re g7 a questo punto il bianco per vincere deve andare nelle case che avrebbe dovuto raggiungere quindi dov'è che la casa diciamo del bianco legata re g7 è la casa per esempio re c6 quindi se il re bianco fosse in c6 il re nero avrebbe dovuto andare in c7 ma in quel caso qua è già in c7 quindi è gioco corretto del bianco andare in c6 e dopo re f6 qual è la casa corrispondenza a parte del bianco di f6 è re e re d5 a questo punto il bianco o si allontana e perde il pedone oppure gioca e6 e a questo punto la posizione è vinta anche senza il principio del carico rispondenti anche se richiede attenzione per esempio qua se il bianco prende il pedone la partita è patta deve giocare attentamente re d7 e mirare a mangiare il pedone e6 con questa tecnica e quindi qua mangia e6 perché è pericoloso in questa posizione qua mangiare e5 perché se in questa posizione qua mangiasse in e5 la posizione è bianco un pedone in più però il nero riesce a pareggiare perché il pedone in più è oltre a essere doppiato e il nero non riesce a progredire se perde una mossa la posizione è patta perché il nero ha l'opposizione quindi abbiamo visto che a seguito della comprensione delle cariche corrispondenti che ha fatto il bianco e il bianco ha ideato un piano per andare in c5 che l'ha condotto alla vittoria tanto per completare l'analisi della posizione vediamo se invece dopo re b7 che è la prima mossa corretta il bianco il nero avesse desistito da giocare la migliore ma avesse giocato per esempio re g7 vediamo che dopo re g7 la mossa corretta è re c6 dopo re f7 re d7 e qua la tecnica per vincere potrebbe essere questa re d8 opposizione anche qua attenzione re f8 stallo quindi re d8 opposizione se invece di re g7 avesse giocato re g8 dopo re b7 anche qua qual è la casa corrispondente del bianco di g8 è c7 quindi c7 a questo punto qual è la casa corrispondente di g7 di g7 potrebbe essere cioè potrebbe essere e c6 o c8 vediamo c6 re f6 a questo punto qual è la casa corrispondente di f6 di g7 anche qua come abbiamo già visto si perde andando a cercare a mangiare il pedone sè quindi direi che è estremamente utile il concetto di casa corrispondente per le tipologie di finale di pedone in cui è tutto bloccato ci sono più debolezze più posizione in corrispondenza delle quali è univoca la posizione del re che difende quindi con la quella tecnica qua che è estremamente difficile perché lo schema che ho riportato sopra deve essere memorizzato non può essere scritto sul fogliettino quindi chi pensa deve capire bene tutte le case ricordarsi ricordarsi durante il giorno spero che sia stato tutto chiaro e molto complesse però dal punto di vista intellettuale molto intrigante vi saluto e vi do appuntamento prossimo video grazie ciao ciao ciao